Muoversi. Infomobilità in Campania. Somma-Vesuviana-Via-Cupanola e Poggio Marino-San Giuseppe-Vesuviano-Sud in entrambe le direzioni in tratti saltuari. Sulla statale 7 quater via Domiziana, sino alle 16 del 2 aprile, restringimento di carreggiata per lavori tra Cellola e Borgo Centro e direzione Roma. Acamir Muoversi in Campania, Marina d'Apicia. Servizio a cura di Acamir e Regione Campania.